Ecco il giro che fa l'aereo. Ecco finalmente l'aeroporto. Questo è il porto di Lima e di Cagliau. Tutti i container. Previsti 23 gradi. Ecco giù. Ecco giù. Vai! Andam, 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 andam! Andam! Lima! 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 Vai via a Lima! Atterranti in perfetto orario. Sette minuti di anticipo. Però la notte si è ballato parecchio.